Ciao Cutler, bentornato, bentornata da Carlo. Oggi tratteremo una fase delicata per il computer, l'acquisto. Hai creato la tua configurazione? Bene, ora è giunto il momento più importante, quello che darà inizio al vero lavoro. Devi scendere in campo, ossia uscire di casa e regarti nel negozio per acquistare il tuo nuovo computer. Ma dove vado? Mi chiederai. Diciamo che hai due possibilità, due opportunità. O regarti in un negozio specializzato, o regarti in un negozio generico di tecnologia, le grandi catene industriali. Se hai dato vita alla tua creatura personalmente, allora è semplice. La tua direzione è obbligata verso un negozio specializzato in vendita esclusiva di prodotti informatici. Il vantaggio che ne trarrai avrà il doppio aspetto morale, quindi una gratificazione, ed economico. La gratificazione sarà dovuta al fatto che acquisterai un computer straordinariamente adeguato alle tue necessità ed il prezzo quindi sarà strettamente correlato all'uso che ne farai. Sarai stato efficacissimo perché sarà il computer che tu avrai creato. Se ancora non hai utilizzato o non vuoi utilizzare il configuratore spiegato nelle lezioni 31 e 32 e quindi vuoi uscire di casa e comprare avendo una vaga idea su cosa acquistare o, peggio ancora, non avendolo affatto, potrai regarti sia nel negozio specializzato, sia in un negozio o di una cadena di una grande distribuzione tecnologica che vende un po' di tutto. Regandoti presso un negozio specializzato otterrai il beneficio di poter scegliere tra computer già assemblati di varia fascia prezzo e prestazioni oppure, ancor meglio, optare per farti creare una configurazione su misura. Ok, mi dirai come fare. chiedi, dialoga, esponiti. In sintesi, in poche parole, parla con i ragazzi del negozio spiegando quanto più dettagliatamente possibile le tue necessità sull'utilizzo del computer e nelle disponibilità di risorse economiche. La loro capacità sarà sicuramente adeguata e ti proporranno quanto di meglio indicato alle necessità che li avrai esposto. La mia certezza sta nel fatto che in questo genere di negozi lavorano persone competenti in materia, proprio perché il loro servizio è specializzato in generi informatici. È indubbio che potresti trovare anche persone non molto addentrate nel campo, ma anche se ciò è abbastanza difficile, ti potranno di certo indirizzare presso i loro colleghi più ferrati. Aggiungo che in un negozio così specializzato si assemblano anche computer, partendo dai singoli componenti. Quindi, per forza di cosa, i tecnici conoscono la materia. Inoltre, è verosimile che lo stesso fornisca anche assistenza tecnica in riparazione di PC, per cui ne viene da sé che questi ragazzi sanno veramente dover mettere le mani. Questa è una garanzia per te e per coloro che usufriranno dei servizi di questi favolosi negozi. E la seconda possibilità? Ahimè, dovrai regarti nei negozi generici di vendita di prodotti tecnologici. Premesso che non pregiudico le grandi distribuzioni, direi di farci comunque un salto per vedere se ci sono offerte appetibili del momento. Altrimenti, lascia stare. Perché queste affermazioni così forti? In questi centri difficilmente troverai modelli recentissimi di un PC. Ossia, venderanno sicuramente prodotti nuovi, ma passami la metafora, anziché essere entrati nel mercato ieri, saranno entrato l'altro ieri, qualche giorno prima. Un po' rifatti, insomma, a fronte degli ultimissimi prodotti lanciati realmente nel mercato, ma venduti nei negozi specializzati. Ecco il perché di certi prezzi scontati e contenuti. Le offerte speciali, poi, sono riferibili a prodotti etichettati come rimanenze di magazzino o di ultimo modello rimasti in esposizione. Nulla è il contrario, sei chiaro? Basta che tu sappia quello che compri. Potresti tranquillamente acquistare un PC del genere dopo aver visionato le sue caratteristiche ed aver verificato l'effettiva convenienza in termini economici. Il famoso rapporto qualità-prezzo. Aggiungo che il personale che lavora in questi centri di norma non è di estrazione informatica, cioè non nasce nel campo informatico, ma lavora in quel dato centro avendo risposto ad un annuncio di ricerca di lavoro oppure tramite conoscenze. Quindi non è un conoscitore vero e proprio del ramo informatico. Potrebbe, teoricamente, anche essere avverso alla tecnologia e che lavora nel negozio solo per necessità. La sua istruzione da venditore o venditrice è pilotata dal proprietario o dirigente del negozio. Artefatta, insomma. Tecnicamente, quindi, la sua cultura specializzata in ambito informatico è pressoché nulla. Pur con il miglior impegno che questi ragazzi possono metterci nell'acquisire informazioni tecniche, potrebbero, secondo te, mai essere paragonabili ai loro pari colleghi di un negozio specializzato? Possibile, ma abbastanza difficile. Quindi, cosa fare? Se sei un dominatore di computer, difficilmente acquisterai un computer già assemblato in vendita in questi grandi centri e, tra l'altro, non credo proprio che ti fermeresti a leggere queste lezioni della guida al computer. Se sei un esperto o inesperta, potresti addirittura nemmeno sapere dell'esistenza di questi negozi specializzati in vendita di tali prodotti per poter rendere così più efficace il tuo acquisto. Ti rivolgerai, quindi, a grandi centri. Cosa accade, allora? La peggior cosa che potrebbe accaderti è cadere nella ragnatela del ragno. Proprio in quanto inesperto o inesperta su cosa sia un PC, rivolgendoti al venditore di questi centri, subirai passivamente le informazioni che ti elargisce. Peggio ancora, saresti indirizzato nell'acquisto della macchina più performante, apparentemente, e naturalmente costosa, alludendo alle sue straordinarie capacità. Dal confronto col venditore, difficilmente usciresti vincitore, ossia con l'acquisto di un PC su misura per te. Gutierre ricorda, lui è venditore. Il suo lavoro, il suo scopo è vendere. Meglio se cosa dice lui. Non ti sembra questo? Che cosa fare, quindi? In questo periodo ho realizzato che potremmo esserti utile fornendoti una base di informazioni per comprendere certe sfumature ed arrivare preparato alla fase di acquisto di un computer. Non tanto tecnicamente, piuttosto culturalmente, diciamo. Essere consapevoli del tuo target, del tuo obiettivo, delle tue necessità nell'uso che farai del tuo computer. In sintesi, ho elaborato un documento informativo che in gergo si chiama Report, che ho intitolato Computer guida all'acquisto. Con esso potrai farti una certa cultura da utilizzare a tuo favore durante questa fase, la fase d'acquisto. Questo perché spesso ho visto nella cerchia di persone con cui mi interfaccio che possiedono un computer sovradimensionato per l'uso che ne fanno. Quindi, in sintesi, hanno speso più soldi del necessario. Il risultato è una spesa oltremodo inadeguata e quindi un mancato risparmio. Dopo la lettura, niente più trappole del venditore, grazie all'acquisizione di un'adeguata acutezza mentale. Saprai quale computer corrisponde alle tue necessità d'uso. Alla fine il tuo guadagno sarà doppio, perché spenderai meno soldi e avrai la certezza di aver acquistato il PC che fa per te, per le tue necessità. Una volta acquisite queste sfumature, potresti addirittura condividerle con altre persone, semplicemente adottando il modus. Io ho fatto così. Ma come ottenere questo report informativo? Il 21 ottobre scorso, questo sito, deguti.com, ha compiuto un anno. Quindi ho deciso che non dovrai spendere niente più di qualche decina di secondi per un po' di click e qualche scroll col mouse. Infatti il report è totalmente gratuito. Un regalo di compleanno al contrario, fatto dal festeggiato. Dovrai semplicemente andare alla pagina di presentazione dedicata del documento, tramite questo collegamento. Atterrato sulla pagina, leggi le caratteristiche dei benefici di questo report. Infine, inserisci un tuo indirizzo email valido, al quale potrò inviarti il link per il download, ed il tuo nome oppure il soprannome. Dopo che lo avrai scaricato, potrai consultarlo tranquillamente, grazie ad un lettore PDF sul PC, o altro dispositivo portatile, oppure stamparlo. Ma non finisce qui. Dopo un breve tempo, ragionevole di circa 1-2 settimane, ti invierò una nuova mail con altro materiale e, se vorrai, potrai anche scrivermi dei commenti sulla qualità e utilità del documento. Il tuo feedback mi fornirà preziosi indicazioni, in modo da modellarlo sempre più alle tue esigenze e da coloro che lo leggeranno in seguito. Quindi, affrettati a scaricarlo e leggerlo, partendo dalla pagina di presentazione. Eccoci nella pagina di presentazione del report didattico Computer Guida all'Acquisto. Scorrendo, potrai leggere le caratteristiche della guida, i vari benefici, ed in fondo troverai una zona dove poter inserire il tuo indirizzo email, in questa zona, e qui il tuo nome. Al termine dovrai cliccare su questo pulsante per poter accedere alla richiesta del report. Dopo aver cliccato, accederai ad una pagina in cui verrà confermata la registrazione. All'interno di questa pagina ti verrà notificato che un email sarà inviato al tuo indirizzo nella quale potrai trovare il link per poter scaricare il report. Una nuova pagina ti comparirà e se il download non parte in automatico dopo qualche secondo, sarà sufficiente cliccare su questo pulsante e attendere l'inizio dello scaricamento. Ecco qua. A questo punto, selezionando la posizione del download e cliccando su Salva, potrai terminare il download del file PDF. Se in questa fase dovessero comparire di fronte o dietro questa pagina dei pop-up pubblicitari, chiudili tranquillamente perché non sono stati generati da me. Bene, nella prossima lezione comincerai a lavorare, Cutler! Ora, un forte saluto! Ciao a presto da Carlo e dalla prossima! Ciao a presto!